siamo quasi al reparto balneazione vedete tutti i reggiseni, i tanga e tutti i fili del culo che hanno lasciato qua quindi se tanto mi da tanto qua dovremmo trovare delle belle gnocche che sono dentro nell'acqua fresca l'unica cosa che invece trovo come sempre sono le ossa porca miseria ma che sfiga ma dice che va bene non è sfiga quello che cerchi trovi va bene eccole eccole sono tutte qua le gnocche sono tutte qua guarda è come come oh che cavolo